Toninelli, cosa dice il governo a queste persone? Perché l'Italia sta esplodendo. Tra poco vedremo un servizio che ci fa vedere tutta l'Italia contro il DPCM. Oggi è solo il primo giorno e già sono tutti in piazza. Ma io non penso proprio che tutta l'Italia sia contro questo nuovo decreto. 141 è il numero dei morti di oggi, 128 è il numero dei morti di ieri, sono morti da Covid. E la curva sta aumentando. Questi provvedimenti, che non piacciono neanche a noi, avremmo voluto ovviamente evitare di creare ostacoli all'attività economica di una parte del settore produttivo importantissimo che abbiamo in Italia. Ma queste nuove regole di oggi, che io spero ma sono certo che tutti noi rispetteremo, avranno i benefici tra 10-15 giorni. E servono proprio ad evitare che quella curva del contagio continua ad aumentare e che ci rischi di andare verso un lockdown generalizzato. Oggi gli italiani si sono comportati bene. Dobbiamo fare sistema paese. Lì sì, io sono onesto nel dire che dobbiamo migliorare come parte governativa, come devono migliorare le parti governative regionali. Facendo molto più sistema. Dove, ad esempio, sui trasporti pubblici locali, ma anche sui controlli che le regole vengano correttamente rispettate. In questo dobbiamo ancora fare dei passi avanti. Ma queste scelte di oggi sono adeguate e proporzionali a quanto la parte scientifica e medica ha dato come base di partenza e del nostro metodo sin dall'inizio alla parte politica del governo. A Toninelli è aperta la partita, effettivamente, ancora? Ci si può aggiustare? Perché tanti non capiscono, devo dire, mi ci metto anch'io, il fatto che uno si ammala se va a pranzo fuori alle 2 e se invece ci va alla sera no. Cioè, non riusciamo tanto bene a capire. Forse allungare gli orari permette di distanziare, che è quello che ci chiede sempre il comitato scientifico. Ma abbiamo semplicemente cercato, il governo ha cercato di evitare un lockdown generalizzato, valutando i flussi dei spostamenti e vedendo che momenti in cui c'erano maggiori rischi di contagio, di assembramento, erano quelli successivi all'uscita dagli uffici. Quindi si sono limitate, diciamo, le motivazioni per poter e voler uscire di casa, soprattutto la sera. Come ha detto ieri Conte, si tratta di misure proporzionate ed adeguate rispetto alla situazione attuale. Oggi la vera sfida è quella però di far arrivare gli indennizi già tra dieci giorni a tutte le categorie che hanno dovuto totalmente o parzialmente chiudere da oggi in poi. E penso che ce la faremo perché soprattutto il fondo perduto, quello che è già stato dato nei mesi scorsi a partire dal decreto rilancio, non necessiterà neanche della richiesta da parte dei possessori, di parte dei imprenditori, ma andrà direttamente perché i numeri sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate e arriverà ad essere il 200%, quindi il doppio e più di quello che è stato erogato relativo alle perdite dal mese di aprile. Allora, abbiamo recuperato l'audio con bene. Allora, Toninelli, una breve risposta perché poi devo andare da Rodovica Palazzoli perché ci sono altre piazze che si aggiungono alla protesta. Sì, cercherò di essere breve ma non è semplice avendo ascoltato le parole di Belpietro. La premessa è certamente una. Oggi più che mai la qualità e la verità dell'informazione è un canale strettamente necessario e di responsabilità nei confronti di cittadini per evitare stati di disagio o di rabbia che possono non essere giustificati da una verità informativa. Cioè, non dico che sia tutto perfetto, siamo i primi a dire che ci sono problematiche, però siamo anche attenti, ricordiamoci alcune cose, perché seppur ammettiamo che nel trasporto pubblico locale c'è una corresponsabilità tra regioni che ne sono responsabili in quanto locale e linee guida assente da parte del Mente, dobbiamo anche ricordare che ci sono alcune regioni che in ambito della gestione dell'organizzazione della sanità che compete per legge a loro, stanno andando meglio e quindi stanno curando meglio i contagiati delle loro regioni di altre regioni. Sono ad esempio le regioni dove la medicina territoriale è stata meno smantellata, quindi ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Io per primo mi levo la casacca politica e chiedo scusa quando ci sono stati degli errori, ma lo devono fare anche i giornalisti, devono fare anche gli organi di informazione, perché quelle manifestazioni, anche se non consentite perché sono potenziali rischio di contagio, ricordiamoci che hanno avuto all'interno dei criminali, dei camorristi, degli estremisti, che hanno sfruttato delle persone per bene per creare azioni di violenza. Toninelli un attimo, ecco perché appunto il tema di Belpietro era il ritardo nelle gare e nei concorsi per rendere il nostro sistema sanitario più efficiente, che è assolutamente incontestabile. Ma io rispondo volentieri che le gare le devono fare le regioni per munirsi, perché sono le regioni che danno i dati alla protezione civile e allo Stato centrale. Sono quelle che, no, 300 milioni sono stati dati, no, Belpietro, ma no, anche lei ascolta ogni tanto, anche lei fa fatica a capire andando su una linea politica e non informativa. Allora basteranno Toninelli questi 10 miliardi che arrivano, siete pronti poi a darli effettivamente alle categorie, oppure ci aspetta un autunno caldo in cui la gente disperata darà fuoco alle piazze. Abbiamo visto l'altra sera Piazza del Popolo, questa sera Corso Buenos Aires, che per chi non conosce Milano è una delle strade più centrali, più importanti. Insomma, le nostre piazze e la nostra vita, anche la nostra incolumità, sono messe in discussione in queste ore. Io non esagererei a estremizzare questo discorso. Certamente le immagini di Napoli, ancora più che quelle di Roma, sono gravi, ma mi pare che stasera voi stesse abbiate parlato di 100 manifestanti a Milano, di una città che di abitanti ne fa tantissimi. Ovviamente faremo di tutto con il senso di responsabilità e l'onestà e la lealtà per evitare che ci sia la rabbia che possa fomentare eventuali tensioni sociali. L'abbiamo fatto in primavera e lo faremo in autunno perché sia un inverno più tranquillo. Utilizzeremo i soldi del Shure per ripagare parte delle casse integrazione già date, fare nuove casse integrazione e tutte le risorse che arriveranno anticipando di tasca nostra quelli soldi che sarà necessario fare. È un momento in cui bisogna investire per evitare problemi.